Benvenuti a Camera di Commercio News. La Camera di Commercio di Torino ha attivato da tempo il punto impresa digitale, servizio che sarà riproposto anche nei prossimi anni. Sentiamo il servizio. Il PID accompagna le aziende nella transizione al digitale con percorsi formativi, consulenza, mentoring e voucher a supporto degli investimenti. A tutte le PMI la Camera di Commercio propone in particolare un percorso in tre passi. Il primo è un test di autovalutazione, il Selfie 4.0, un questionario gratuito e naturalmente online. Le imprese conoscono così il loro grado di digitalizzazione, analizzando strumenti aziendali come il numero di PC e tablet e la funzionalità del sito. Alla fine del test si ottiene il grafico con il proprio livello di digitalizzazione e anche un utile confronto con le imprese dello stesso settore. Il secondo passo è uno Zoom 4.0 con la visita in azienda di esperti che valuteranno bisogni e prospettive. Terzo, l'affiancamento di un mentor digitale che accompagna le aziende a trovare le soluzioni più adatte. Tra le aree più richieste dalle imprese torinesi ci sono SEO & SEM, e-commerce, digital marketing e cyber security. È tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.